E allora continuiamo a parlare di mercato Luca con il momento più atteso dei nostri telespettatori e cioè la raffica di mercato giornaliera. Trattative che vanno avanti anche sotto l'ombrellone a ridosso del Ferragosto. Partiamo dalla Serie D, partiamo dalla Fidelisandria che ha comunicato ufficialmente la lista dei 21 convocati che partirà domenica 16 agosto per il ritiro di San Giovanni Rotondo dove la squadra resterà fino al 2 di settembre. In gruppo ci sono anche diversi giovani del vivaio bianco-azzurro, i difensori 2002 da Luiso e Atiffi, il centrocampista 2002 Massari e l'attaccante 2002 Di Palma. E' arrivato il nulla osta, lo vediamo in lista, per il portiere classe 2001 e questa è la novità di giornata. Dario Anatrella, scuola Roma ma di proprietà della Paganese, quindi essendo un club DC trasferibile solo dal primo di settembre, tra i giovani c'è anche il difensore classe 2002 Neri, quest'ultimo aggregato. Una nota ufficiale emessa dalla società, informa anche sull'Iter, lunedì sono previsti i test atletici, mentre in questi giorni si stanno completando i test sierologici e anche i tamponi dove è necessario, come raccomandato dal protocollo sanitario diffuso da pochi giorni. Restiamo in Serie D perché Lorenzo Longo non giocherà come invece sembrava in un primo momento con il Bitonto, quindi in C nella prossima stagione. Piace tanto al Casarano, contatti avviati col club rossazzurro per l'ex audace Cerignola, la firma non sembra lontana, Longo aveva avuto contatti anche con il Taranto e il Lavello. E a proposito di Taranto e Cerignola, è saltata una operazione, o meglio un giocatore cercato dai due club, ovvero Ciro Foggia, centravanti che invece ha firmato per il Messina, quindi non sarà nel girone H il futuro dell'esperto attaccante, bensì nel gruppo I, quello dove trovano posto le squadre siciliane e calabresi, questo è il comunicato del Messina. Ci spostiamo a Bisceglie, dove è possibile la conferma di Nicolo Murolo, centrale difensivo classe 2001, era già inorganico nel campionato di Serie C ed è cresciuto invece nell'unione calcio Bisceglie. Ci sono due annunci a gravina, il primo è arrivato stamattina, ma andiamo in ordine cronologico da quello più vicino, che riguarda l'attaccante Massimiliano Giusti, che ufficialmente è un attaccante del Gravina, cresciuto nel settore giovanile del Padova, sa ricoprire tutti i ruoli nel reparto offensivo, è un classe 95, nelle ultime due stagioni ha giocato con Vicenza, Este e Mestre e natio di Teolo in provincia di Padova e sarà a disposizione di mister De Leonardis nel raduno al Via nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, dove troverà posto anche Matteo Montinaro, acquistato nelle ore scorse dal Gravina, un classe 96, vi avevamo raccontato di questa trattativa, è stato protagonista a Montinaro nelle scorse stagioni, con Nardò e Bisceglie. Nell'ultima annata si è suddiviso invece tra Monopoli e Brindisi. Voltiamo pagina in tutti i sensi per parlare del campionato di eccellenza. C'è un arrivo tra i pali dell'Atletico Vieste, riguarda Simone Equestre, portiere classe 2001. Nella scorsa stagione aveva giocato anche con la Fidelisandria in Serie D, passando al Vieste a dicembre. Quest'anno aveva firmato invece con la United Sly, aveva trovato un accordo con la United Sly. Poi conosciamo le recenti vicende del club, e di fatto si è liberato e ha firmato con l'Atletico Vieste. C'è una doppia idea per l'attacco del Mola, club ripescato in eccellenza, che non nasconde le proprie ambizioni. Mi piace Mario Musalegh, nell'ultima stagione all'Unione Calcio Bisceglie, ma si segue anche Cristian Albrizio, reduce dall'esperienza con l'audace Barletta. Infine, a proposito di ripescate, Tris di annunci per il Sava, che ha ingaggiato il 22-1 Pasquale Monopoli, esterno di centrocampo, prelevato dal Deghi Calcio, dove ha giocato l'ultimo torneo di eccellenza in passato per lui. Anche esperienze in Serie D nelle fila del Nardò. Conferma tra i pali invece per Angelo Maraglino, esperto portiere originario di Taranto, che di fatto resterà tra i pali della squadra. Il trentenne Maraglino ha acquistato anche un giovane, una mezzale, il giovane Mattia Raimondo, classe 2002, cresciuto calcisticamente nella Virtus Francavilla, reduce da una stagione gratificante nelle fila del Grottaia. e di calcio mercato.